Questa differenziazione tra il malato oncologico per esempio che sta facendo chemioterapia e il malato oncologico che fa radioterapia veramente mi sembra paradossale se non ingiusta veramente. In più c'è anche questo fatto che i malati fragili che non rientrano in questa fascia sono rimandati alle fasce d'età. Ad intervenire sul tema delle vaccinazioni ai pazienti fragili adesso è il presidente del Calcit Giancarlo Sassoli a seguito delle numerose segnalazioni ricevute legate a questa problematica. Ora pensiamo ai malati che rientrano in una fascia d'età 41-51 diciamo che potrebbe essere anche abbastanza veloce ma i malati che hanno 60 anni, i malati che hanno 50 anni, i malati che hanno 40 anni, cioè la strada mi sembra troppo lunga perciò io penso che qua vada veramente trovato un percorso a parte agevolato e che diciamo che gli dia almeno una data abbastanza vicina. Questo insomma non mi sembra anche se si tratta di raccomandazione ministeriale che se si parla di raccomandazione forse non sono leggi. Io credo che la regione toscana possa e debba aggiustare questa situazione. Sulla questione è intervenuto anche il direttore del Dipartimento di Oncologia dell'Asla Toscana Sud-Est Enrico Tucci che fa sapere che al momento si sta facendo tutto quello che è possibile all'interno del quadro normativo attuale. In queste ore prosegue e continuiamo a valutare le situazioni dei pazienti seguiti a radioterapia per verificare chi tra loro è comunque un paziente fragile in base alle raccomandazioni ministeriali. L'Asla Toscana Sud-Est infine ricorda che la direzione regionale ha già chiesto formalmente al generale Figliuolo di equiparare i pazienti in trattamento radioterapico a quelli in trattamento chemioterapico.